4 ottobre 2021 oggi sono successe tante cose oggi facciamo una breve indagine offerta gentilmente dalla nostra amica olga su q ciao a tutte connettetevi con lo stato delle cose più che con un movimento personaggio mi sentite lo stato delle cose partiamo da l'incidente portale del cesna san donato 4 ottobre oggi muore uno dei miliardari rumeni più importanti della storia della romania con tutta la famiglia c'è un bambino morto causa esoterica io vedo come si ho visualizzato la parola un tradimento come se avesse fatto qualcosa che non doveva fare io ho visto lo stesso motivo come se l'avessero voluto far fuori perché un po come dice sabrina come se avesse fatto un passo indietro rispetto ai lati che ho fatto un po come come quello del mottarone più o meno la stessa causa ok quindi stiamo parlando di deep state di accordi fatti col deep state in questo uomo che veniva considerato il buono si torna sui sui passi se era legato a una forma di massoneria sì 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 se solamente no come come mina no io la vedo più a parte di un tutto se a livello europeo più globale in causa del 4 ottobre perché oggi ci sono delle energie vogliono far finta che siano delle energie è un po è un po simbolica come data c'è una correlazione tra il down di whatsapp di oggi in tutta italia questo fatto e lo introduciamo il secondo il l'incendio al ponte di ferro ponte dell'industria a roma e lascia senza commissione internet una parte della città capitale d'italia di proporzioni notevoli ponte di ferro 2 ti grazie in una come 20 che vogliono coprire qualcosa vogliono insabbiare vogliono coprire poi prima con l'aereo con ho visto come se una mano che prendeva proprio l'aereo e lo buttava contro quella palazzina se stanno cercando di distrarre di spostare il focus delle persone con una serie di di cose una dopo l'altra perché stanno provando qualcosa lo stesso l'incendio a torino si è successivo all'incendio a milano se è ok è solo un modo per distrarre riempirete le giornali con qualcosa o c'è dell'altro sono dei riti allora come parla io vedevo come nominavi tutte queste situazioni come se si accendevano delle lampadine che creavano un percorso creavano allora io vedo che usano le date in maniera rituale quindi oggi il 4 ha un senso quale ma ecco sia un senso al senso è lo stop del calendario tra virgolette a livello dall'antichità come se fosse in antichità era una volta era capitato che avevano interrotto il calendario per dieci giorni e l'avevano ripreso dopo dieci giorni partendo dal 4 ottobre è un rituale sabrina hai detto stanno distraendo preparando qualcosa cosa vedi che per faranno è tutto è andato non come doveva andare no cioè io nel senso vedo che è stato tutto accelerato tutto i piani non sono come loro li avevano progettati a partire dal discorso covid a partire da tutto questo questo momento che stiamo vivendo e quindi stanno cercando sono usciti fuori dal loro progetto stanno cercando di aggiustarlo e aggiustarlo parlo della della di arrivare al trans umanesimo parlo di 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 renderci più in una certa maniera più sotto controllo quindi si stanno inventando più cose per per arrivare si aumentare la paura esatto perché la paura è il mezzo per tenerci sotto controllo no che cosa stanno per preparare io vedo trans umanesimo vedo questo ci prova se non ce la fanno ok il chip sottocutaneo è di fatto a livello nanometrico presente nel cinema h non io vedo non ancora no ci sono delle molecole fanno attraverso le molecole a livello nanometrico vuol dire che è infinitamente ma piccolo e grande come una molecola se sono le molecole all'interno del liquido anica sabrina guardate non è un chip è una nanotecnologia una cosa impensabile è una cosa che non viene vista nemmeno degli strami io quello che vedo è come se fossero dei proprio delle tipo io vedo una goccia che non è non cip nanometrico ma è un pezzo per vedere cosa succede ma non è ancora è un prototipo non è ancora che mi sono arrivati come se questo era un pezzo ma il pezzo per il controllo lo devono ancora fare non so cosa dire come lento nevranno con un altro cini vacca che nessuno vuole fare quando vorrebbero introdurlo tante persone lo faranno arriveranno anche altri vaccini cambieranno cambieranno ci saranno altre dosi ci saranno altri la scusa del che il bacchella virus carabia cini vacca ok va bene passiamo a q qual è la situazione qual è la condizione del deep state se il deep state sano è al cento per cento il deep state distrutto è lo zero per cento a che punto siamo io vedo di state ancora presente a 30 per cento e a 35 per cento io ne vedo un po di più quanto 50 ok cosa succede in australia quanto è presente lì il deep state con le gordo è detto l'australia io ho visto come una cupola proprio sopra l'australia io vedo che ne va nelle città c'è come se fosse come se fossero come se le città fossero delle enormi calamite che attirano l'energia a loro favorevole per andare avanti con loro piano è come se fosse una concentrazione enorme di del deep state mondiale se per avere l'energia sufficiente per andare avanti a livello energetico sì 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 stato della diga delle tre gole tentennante ma manca proprio poco come io ho visto come se ci fosse pronta un ascia così che basta che tocca appena viene giù tutto sono sembra che sia lì libero io vedo ne sono ricollegata all'immagine che avevo un'altra volta dalla spaccatura che c'è da una parte e l'altra vedo che sta iniziando a uscire l'acqua vero scandalo di cinese della dell'azienda che si occupa di costruzioni evergrande non si chiamano se non sbaglio vera virtuale scusa per far cadere l'economia spiego a monica e sabrina perché lena mi sa che lo sa c'è una una società gigantesca enorme che costruisce città no ma forse lo sai sabrina e costruisce città che sta per fallire sembra non è un fallimento di un'azienda basta è un fallimento di un'azienda fondamentale per l'economia cinese ed economia cinese se ha uno scossone ce l'ha tutto il mondo tutti paventano questo problema in arrivo è una scusa per coprire non so la caduta della briga delle tre gole la caduta di una certa struttura di un certo tipo di mondo passato e che sta passando vedo la frase e l'inizio della fine oggi vedo le frasi così io vedo che come se hanno cercato di mettere una pezza in qualche modo creando soldi creando coprindo i debiti tutte queste cose ma alla fine non ci sono riusciti quindi crollo vero se si è proprio come se questa situazione comunque era era prevista era come se gli hanno dato diciamo un calcio più forte per per accelerare la cosa sono a me dirti ok ma avrà delle repercussioni mondiali sì 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 c'è una crisi economica in arrivo c'è un cambiamento cioè c'è un io vedo un cambio di energie vedo divisione del sistema così come crollo lo stop di quel del sistema così come è ricomincia in un'altra maniera io vedo una cosa prima le persone erano deragliate tutte da una parte e invece adesso sono divise in due gruppi vedo che sono come divisi c'è relazioni se consapevolezza nel cambiamento e l'altro che vuole continuare a fare come si faceva prima non so come dirti ok non sapevolezza del cambiamento ecco a volte si a volte no dipende sta un po di qua un po di lanza io però da questa parte con non lo vedo tanto e più altro credo come se fosse l'occasione per poi ripartire con la consapevolezza giusta è un passo in passaggio ovviamente trampa riprende il trono di presidente degli stati uniti in ottobre voglio non lo vedo tanto ok ma che non è necessario nel senso che lo prende qualcun altro biden cade se io poi da nevevo capire mai danno faranno cadere proprio lo faranno cadere ok crede cederanno delle cose che lo porterà proprio ad uscire di scena non so come dirti kennedy junior è vivo e si mostrerà al mondo ma io l'ho visto vivo non avevo io l'ho veduto avevo anch'io forse ancora non si mostrerà al mondo lo vedo che si mostrerà fra un po ok esiste un evento che cambia le cose in ottobre che inizia un qualcosa e si si in che data che periodo io vedo talmente tutto in divenire che che non puoi rispondere nel senso 15 ottobre aprono la porta degli inferi dell'inferno a roma l'italia l'italia è una certa importanza tutte cose che abbiamo già detto chi non la seguite si vada a vedere le vecchie sessioni e le vecchie indagini bene il 15 ottobre cosa succede io anche prima vedo pre qualche cambiamento nemmeno sia ci si arriva al 15 presa ottobre così avevano te come si stanno dicendo che accadono queste cose io se blocco perché io faccio così di solito blocco il tempo perché altrimenti è un continuo io vedo che non è che non si arriva a quello che loro dicono all'apertura della porta dell'inferno ma non solo quello pure al dietro io vedo che prima che il loro obiettivo era quello ma che mi lavora per arrivare l'atto io vedo che funziona c'è la parola rimane chiusa io vedo che la porta non si apre e che ci sono tantissime persone lì proprio che tengono questa porta chiusa nelle piangono si viva da tante ps di davanti a questo portone uno sopra l'altro che tengono le mani tutte e due le mani su questo portone per non farlo aprire e quando i potenti diciamo così vedono che le cose che loro avevano organizzato e cercato di fare non vengono come vogliono loro è come se un po si arrendono non so come dirti vedo che si chiama anche tra agosto avete capito di farlo chiamate drago se adesso lavoriamo accelera e questo è il nostro lavoro il risultato del nostro lavoro se io dico se io mi sembra in molte sessioni recenti abbiamo praticamente morso ico amo moloch sembra che moloch non esista più io vedo genere come l'altra volta e le corna per terra giusto per farmi vedere dragos c'è un bellissimo tiro al bersaglio drago sei mezzo e tutto intorno a dragos tutte le ps le p e di tutti i tempi soprattutto quelle italiane degli italiani di tutti i tempi di questi tempi solo quelli con p e vengono solo con la loro p e solo quelli con ps vengono solo con la ps e la p e quelli che sono civili civaccati vengono vengono a vedere magari un più indietro le 300 perle davanti prima fila e noi 4 davanti prima fila dragos a una ps io lo vedo che si è trasformato proprio adesso ha preso le sembianze di un dragone grande verso il sacco con io è chiaro lo vedete nello stesso modo se fu da fuoco stesse volte arrabbiato e c'è fu una dannata fuoco anche delle ali dietro di sì 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 ma che coincidenze fantastiche va bene ci prendiamo tutti adesso una nuova pillola oggi creiamo una nuova pillola immaginate un avete presente quelle caramelle colorate con dentro il cioccolato no quelle schiacciate non vuole con l'arachide delle quelle solo di cioccolato quindi una caramella quello con quella forma di di lente 3d e sopra davanti ha scritto a come il segno della pace quindi una specie di y diciamo e quindi divisa in tre settori vici vic vibrazione informazione consapevolezza la tri pillola la pillola che a queste tre componenti ce la prendiamo tutti se la prendono tutti quelli che sono sono presentati primo le 300 perle e tutte le ps tutte le pie che si sono presentate al cerchio intorno a drago tutte quelle degli italiani che si sono presentati quale percentuale di italiani si è presentata 70 bene i 70 vanno subito a prendere i trenta e portano qui tutti fino all'ultimo non è venuto 81 saliamo con la secola percentuale tutti devono essere qui tutti anche gli italiani del passato i partigiani quelli che hanno combattuto per la libertà di questo paese che non c'è ma di questo territorio che esiste e che è una storia che un'energia è un valore importantissimo per tutto il mondo lo stivale tutti 99,9 no 100 per cento qui questo sentendo una cosa strana scusatemi mentre parli sotto il vento tra le mani e non c'è bento perché la finestra è chiusa tutto chiuso tanto come un grandissimo flusso di energia dalla mano alziamo la vibrazione prendete di nuovo la tripillola e ditemi quando siamo al 100 per cento almeno degli italiani io vedo per cento saliamo la vibrazione va alzata l'alziamo a livelli impensabili 100 mila miliardi lo voglio vedere a bruciare drago su i suoi fogliettini verdi lui e i suoi cini i tempi sono finiti i tempi sono maturi 92 per cento saliamo in fretta tutte le ps si devono dare da fare adesso in fretta pioggia di pillole vick su tutti pioggia una meteora di più a meteore di pioggia grandi nata di pillole ovunque che succede ci sono cento la vibrazione se c'è proprio la situazione la luce c'è tanto fondi allora tutti adesso tutti quindi lo farà per tutti aprono un portale definitivo al cubo 3 il la vic al cubo e ci mettono dentro drago è un portale che pari a un cubo di sei faccia ogni faccia un portale stato risucchiato proprio ok c'è quando siamo arrivati al cento per cento aveva molto che sera è soltanto uno specchietto per la luna adesso ci mettiamo in mezzo tutti senza dire nomi tutti quelli che sono i capi di drago sui e quali di drago su per esempio le macarons per esempio il simpatico francese macarons rosa perché so può essere rosa le macarons solo rosa un colore femminile fu fu tutto rispetto lì dentro lì in mezzo insieme a tutti quelli che sono ancora lì che tagliano tagliuzzano bambini violentano eccetera tutti questi che fanno dei simpatici reti di ogni tipo tutti quelli che sono qui da me a creare un temporale in ottobre tutti quelli che sono da voi tutti tutti una parte tutti tutta un'energia nera che entra tutta insieme tutto mentre dopo un flusso non c'è energia nera che a vortici non c'è energia nera che può resistere alla pillola vick c'è niente di più forte della vibrazione dell'informazione e del suo risultato la consapevolezza nessuno la moltiplica la vick nessuno la dà a tutti nessuno la regala facciamo e come se sta uscendo il sole della stessa cosa stava dicendo come quando smette di piovere siamo ok tutto in mezzo il nero e lo buttiamo in una portale e che se si stava andando se hanno fatto con questi nuovi risultati con questo nuovo lavoro quali sono i risultati il 15 ottobre in otto ore 15 ottobre in italia fogliettino verde per tutti assolutamente da ad un lato questo momento in questo istante poi non sappiamo domani con questo momento si annullato annullato c'è tutto in francia chiedo che come se questo scusatemi che questo processo non finisce cioè noi l'abbiamo fatto adesso però vedo come se abbiamo dato unilato milano vado meno io vedo come domino se come accadono agli abitivi uno dietro l'altro quindi continua realtà anche che le altre ps che si sono unite comunque hanno imparato hanno preso appunto la fatica adesso sanno le cose quindi non è che siamo sono delle bambine infatti lì che vanno imboccate adesso hanno imparato a mangiare la pappa da sole prendono decisioni opportune cambiano il gioco subito vorrei ribadire il concetto di subito non ci sono più congiunzioni estrali pleni luni adesso prossimo anno ma vediamo questa di state il adesso subito senza più rimandare è il nuovo corso ok prendetevi anche voi una bella pillola vick la personalizzate ho fatto prima ma subito qualcosa da aggiungere io vedo che vengono spianati proprio così con la vibra certissima riuscite a dare un valore alla vibrazione no numero troppo tra malzati come una fa io vedo questa vibrazione tipo non d'adurto non che sta spazzando che continua andare avanti sarei via man mano che era che più che va avanti ok fatevi un aumento della vibrazione personalmente per tutti gli obiettivi personali che avete chiedendo a ognuno di voi alle altre due una sinergia approfittando di questo momento di unione e mi unisco anche io ovviamente ma io già prima come ho visto che avevamo andato tutto quanto ed è riuscito il sole ne tre ci tenevamo tutte e tre per mano adesso si è arrivato anche tu ok abbiamo un cerchio e ci teniamo tutte e tre parma dobbiamo valore a questa vibrazione completa che noi ci condividiamo tra di noi datemi un numero miliardi di miliardi di miliardi quindi di quello che vogliamo lo desideriamo e viene talmente alto ok va bene q2 abbiamo finito quindi disconnottetevi da questa breve indagine e grazie ancora ad olga